Voglio trasformare queste due frazioni in frazioni equivalenti che abbiano il denominatore assegnato. Per prima cosa mi accorgo che 15 e 10 sono semplificabili, infatti tutti e due i numeri sono divisibili per 5 e pertanto li divido. 15 diviso 5 fa 3, 10 diviso 5 fa 2. Pertanto dovrò trasformare 2 in 8. Mi chiedo per quale numero devo trasformare, moltiplicare 2 perché diventi 8? Chiaramente va moltiplicato per 4. Pertanto anche il 3 andrà moltiplicato per 4. E 3 per 4 fa 12, pertanto la frazione equivalente a 15 decimi è 12 ottavi. Passo alla seconda. 22 e 44 esimi mi accorgo che 22 e 44 sono moltiplici di 11 e pertanto li posso semplificare. 22 diviso 11 fa 2. 44 diviso 11 fa 4. Mi chiedo, per quanto va moltiplicato 4 per diventare 16? Chiaramente va moltiplicato per 4. Quindi devo moltiplicato per 4 anche il 2. 2 per 4 fa 8. Quindi la frazione equivalente a 22 e 44 esimi è 8 sedicesimi. Chiaramente le moltiplicazioni per 4 si può ed è meglio evitare di scriverle. Grazie. Grazie. Grazie.